ciao a tutti siamo pronti finalmente a imparare la seconda parte del ritornello direi di partire subito abbiamo finito con le mani in questa posizione adesso dovrò semplicemente spostarmi e faccio 1 e 2 ok quindi le braccia aprono mi sposto apro e sposto e la testa segue 1 e 2 adesso le braccia faranno questo movimento quindi con i gomiti avambraccio passa da sotto ed esce insieme al cambio di peso quindi 1 cambio gamba 2 3 4 5 6 al 7 porta avanti 7 all'otto riporto davanti agli occhi e vado dall'altra parte 1 e 2 3 4 5 6 7 avanti 8 e faccio 1 scendo porto il busto al 2 ok inclinio il busto e gesto di soldi al 3 ritorno 4 5 6 7 8 e poi faccio avanti 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi porto le mani avanti alternando verso sinistra insieme con le gambe 1 2 3 4 5 6 7 8 lo vediamo con la musica porto le mani avanti qui ripartirà la scrofa che abbiamo già visto ci mancano ancora due parti da vedere ovvero l'intermezzo e finale ci vediamo al prossimo tutorial buona giornata ciao Grazie per la visione!